Si è appena conclusa la conferenza stampa e sono sorpreso di me stesso, perché adesso forse inizio anche minimamente a concepire l'ascendente che ha i cardi su alcuni tifosi, perché per me quell'ascendente ce l'ha Spalletti, cioè Spalletti può arrivare al punto di scendermi sotto le mutande e poi ribaltare tutto inesorabilmente a diventare lì, a stare lì in alto. Perché è strano, è una questione strana, cioè oggi per esempio al bacio, per me oggi Spalletti è stato al bacio, per quel che gli si vuole dire, tutto quello che volete, ma oggi per me Spalletti ha detto tante cose perfette, giuste, esatte, innanzitutto ha riassunto il mio pensiero, che qui in questa faccenda ci abbiamo perso tutti, ed è la verità. Cioè questo lo sanno anche i muri, ed è la verità. Quindi già questa è una sacrosanta, si dà giustizia, questa già è giustizia. Seconda cosa, con i cardi l'Inter è più forte, lo ha messo, e lo sapevamo, ed è giusto. A maggior ragione adesso che ci manca l'attaccante. La cosa più esatta è quello che lui dice, con la Lazio si è messo il punto sulla faccenda di cardi, ed è questo che volevamo. Noi tifosi, è questo che volevamo. I veri tifosi dell'Inter, che vogliono il bene dell'Inter, volevano questo, che si arrivasse a questo punto. La mia rabbia forse che è scattata nei confronti di Spalletti a caldo, è che questo punto per il bene dell'Inter forse lo si poteva mettere anche un pochettino prima della Lazio. Ma alla fine forse gli va data ragione a Spalletti, giusto così, giusto così, così dai un esempio, quello che vuoi, anche se questo esempio si porta dietro tanti errori precedenti, ma non voglio ritornare su discorsi vecchi. Però lui ha optato così, e basta, cioè basta. Con la Lazio si è messo il punto, adesso si deve ripartire. Quello che un pochettino mi fa paura è che questo punto l'abbiano messo tutti? L'abbiano messo davvero tutti? Spalletti dice che la squadra, la società, il gruppo e lo stesso Icardi, sì. E questo è già fantastico, se ovviamente a questa risposta ci sono delle concrete certezze. Quello che però già non mi piace è la Nord, la Nord che a questo punto a quanto pare non l'abbia messo. Non l'abbia messo perché ha proprio fatto un comunicato dove dice che invitano l'Inter a prendere a più presto i necessari provvedimenti per allontanarlo da un gruppo che non pare minimamente intenzionato a condividere con lui il percorso immediato e futuro. Però non avevano neanche ascoltato queste parole di Spalletti e Spalletti ha smentito dicendo appunto che già Icardi, allenandosi come si deve, reagendo bene al discorso di ieri, che a quanto pare ieri poi giustamente Spalletti ha dovuto parlare, lui si è allenato benissimo, quindi si è messo il punto e dobbiamo farlo tutti ragazzi. Quello che poi alla fine, ovviamente a caldo si possono fare tutti i ragionamenti che vuoi, Spalletti out, Icardi vatteno, non ti vogliamo vedere più in campo, sono il primo, sono il primo. A caldo ok, ma poi quello che deve prevalicare, quello che deve sempre prevalicare è il buonsenso e soprattutto, lo dice Spalletti ma lo diciamo tutti, è il bene dell'Inter, quello deve prevalicare. E adesso che non hai attaccanti, il bene dell'Inter, e Icardi, pugno duro, quello che vuoi, al ragazzo gli è stata tolta la fascia, io l'Icardi capitano non l'ho mai tollerato, mai, mai, perché non poteva essere il simbolo di questa squadra, non poteva rappresentare al meglio, eh, al meglio i colori nero-azzurri, assolutamente no, e su questo, su questo lo dirò all'infinito, ma lo dirò all'infinito, ogni volta che me lo chiederete, all'infinito. Ma sull'Icardi giocatore, ragazzi miei, dobbiamo fare un discorso diverso, specialmente adesso che ci serve. Ragazzi, la vita è fatta di opportunismo, cioè, l'uomo, l'uomo, lo dirò all'infinito, per quanto possa essere meschino quello che sto per dire, l'uomo si campa di opportunismo, di opportunismo. Se avessimo, se avessimo un altro attaccante fortissimo, come lo stesso Lautaro, perché no? Allora si poteva fare tutti i ragionamenti che vogliamo, lo facciamo marcire in tribuna, questo, quello. Ma adesso non deve prevalicare otto usaggini e ristrettezza mentale, adesso deve prevalicare il bene dell'Inter, il bene dell'Inter, ragazzi miei, è andare in Champions League. E un Icardi, che ha voglia di calcare il campo, un Icardi, che ha voglia di far gol, ci fa bene e ci fa andare in Champions, che è quello che vogliamo. Ci fa andare in Champions, punto. Noi dobbiamo andare in Champions League, questo è il discorso. Se voi, chiunque è contro Icardi, chiunque è contro Spalletti, che ha la bacchetta magica, Se voi mi date un foglio di carta, dove mi dici, queste sono le condizioni, e le condizioni sono che sono erano Spalletti, che buttano fuori Icardi dalla squadra, però vai comunque in Champions, io a queste condizioni ti metto la firma, non è un problema per me. Come te la metto la firma che Spalletti è l'allenatore, Spalletti è Icardi, è l'attaccante che ti farà i gol per andare in Champions, io ti metto la firma anche lì. Basta che mi fai andare in Champions. Questo, ragazzi, questo è buonsenso. Deve prevalicare l'Inter, deve prevalere il bene per l'Inter. Tutte le chiacchiere che facciamo a caldo, io, il primo sempre, tutte le chiacchiere che faccio, siamo ancora più precisi, tutte le chiacchiere che faccio a caldo, poi alla fine se le porta via il vento, perché quello che conta è il bene dell'Inter. E oggi, Spalletti ha teso la mano ai Cardi, a differenza di tutti quelli che dicevano, no, ma il vero problema è Spalletti che comunque lui che non vuole, e non fa giocare i Cardi e non giocherà più, perché finché c'è Spalletti, non è vero, non è vero. E domani ci sarà la prova. Cioè, domani si avvererà il ritorno dei Cardi. Mamma, sono sfinito, sono sfinito, sono sfinito, ma la battaglia è appena iniziata, la battaglia è appena iniziata, però si riparte da zero. E basta, è giusto così. Si riparte da un Icardi giocatore e non più capitano, ed è giustissimo così, da un gruppo che speriamo di ritrovare unito e compatto, e da ripartire da quell'intensità, da quella voglia di unione, che comunque con l'Alazio c'è stata. Perché con l'Alazio possiamo dire tutto, però alla fine la squadra ha corso. E già è qualcosa, cose che non vedevamo in passato. E niente, avanti così, avanti così e speriamo bene, speriamo bene per l'Inter. Speriamo bene per l'Inter. Perché poi i Cardiani, Spallettiani, Interisti, questo, quella, l'Inter, prima di ogni cosa. Un grande abbraccio da Neschio. Ciao.